Sono ancora in corso gli accertamenti su quanto accaduto nella giornata di ieri in un'azienda chimica in via Sessa Strada ad Arzignano. Due operai sono rimasti vittima di un incidente sul lavoro. I due lavoratori erano intenti a controllare delle saldature all'interno di una cisterna verticale in fase di installazione, indossando i dispositivi di protezione e un respiratore umbilicale, quando si sono sentiti male e hanno perso conoscenza. I vigili del fuoco, subito intervenuti da Arzignano, hanno estratto gli operai, in collaborazione con il personale del SUEM che ha portato a terra i due operai. Questi sono stati stabilizzati per poi essere trasferiti all'ospedale di Vicenza. Sul posto anche il funzionario di guardia dei vigili del fuoco insieme al personale dell'ospisal e i carabinieri.